Mauro Grimoldi è psicologo giudicico e lavora come consulente al Tribunale di Milano e anche consulente della Corte d'Appello. È esperto di criminologia minorile e di disturbi del comportamento in adolescenza. Questo rende per noi importante essere formati da persone come lui perché io ne sento sempre più il bisogno di capire di più dei ragazzi oggi. Quindi avere una persona esperta di disturbi del comportamento in adolescenza e di criminologia minorile, dei comportamenti violenti dei ragazzi, è molto importante, io credo. Quindi coordina l'Istituto Milanese di Psicologia Giuridica ed è responsabile scientifico del Master in Psicologia Giuridica e Forense. È formatore e docente universitario a contratto di ontologia professionale, è stato presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, è autore già di un testo sulle adolescenze estreme, cioè sui ragazzi violenti, così. E uscirà ad aprile un suo secondo manuale di cui ci parlerà anche oggi, ci anticiperà perché credo che sia un libro che possa essere proprio interessante per noi che abbiamo a che fare con anche questi adolescenti estremi, anche questi, io lo vedo in carcere ormai, che passano sempre, anche stamattina avevamo una scuola e due delle testimonianze erano di due ragazzi che hanno cominciato una, tra virgolette, carriera criminale da ragazzini a 14-15 anni e oggi è immesso in carcere con pene significative, uno ha 21 anni adesso e un altro ne ha 29 e sempre più in carcere si vedono queste storie. Ecco Mauro, a te la parola. Allora intanto un grande ringraziamento a Ornella Favero, al carcere Due Palazzi e a questo bellissimo progetto, questa bella iniziativa che so che coinvolge sia degli operatori che si occupano in concreto di adolescenti e di adolescenti in situazioni problematiche, sia di ragazzi che magari avranno modo di poter ascoltare qualcosa, qualche vicenda, qualche storia e anche di proprio coetanei coinvolti in vicenda del penale. Ho visto intanto che vi collegavate qualcuno che aveva nel suo nome presente qui nella connessione Zoom, Usm. Ecco, io sono stato un fabbro, ho messo le mani in pasta perché per ben 18 anni ho collaborato, sono stato prima consulente, poi responsabile dell'equip che si è occupata della valutazione dei minori autori di reato per l'USM di Brescia. Quindi il mio ruolo è sempre stato il ruolo di qualcuno che effettivamente le cose le fa da dentro e apprezzo chi le pose le conosce e le fa dall'interno. Magari a volte sentendo fortemente l'esigenza di un approfondimento, perché chi lavora a volte non ha il tempo, la possibilità materiale di concedersi quel lusso che è proprio costituito dalla possibilità di fermarsi, di avere il tempo per poter pensare, per poter riflettere, per poter ragionare su quello che ci troviamo di fronte. Ma con i minori autori di reato, questa faccenda dell'avere il tempo, questa faccenda dell'avere le competenze è particolarmente importante perché il reato minorile, la criminalità da ragazzi, ha delle caratteristiche sue particolari. E' ben detto Ornella Favero nel ricordarci che il prezzo di un minore non recuperato in età adolescenziale, quindi di un minore che inizia a commettere reati a 14-15 anni e magari prosegue per tutto il resto della vita, costituisce un enorme danno, non soltanto per quella vita che potrebbe risultare dal punto di vista, come dire, di una concezione produttivistica a una vita un po' sprecata, ma anche per il gravissimo danno sociale che produce, perché evidentemente il prezzo di un ragazzo che commette reati da un'età così giovanile fino all'età adulta effettivamente è un costo sociale molto significativo. Per via di questo costo sociale, se vogliamo, la nostra nazione, il nostro paese, proprio l'Italia, ha una delle leggi che dal punto di vista di come è scritta e dei principi che la governano, potrebbe essere considerata una delle leggi più avanzate d'Europa e forse del mondo. Effettivamente questo DPR 448 dell'82 ci mette davvero molto avanti su tante cose, ma non voglio essere tecnico. Io, come vi ho detto, mi identifico come uno che mette le mani in pasta e il libro a cui faceva accenno adesso Ornella, che mi impegna proprio in questi giorni nell'ultima revisione, insieme ai bravissimi editor della Raffaello Cortina, editore, è un libro di storia. È un libro di storia, si chiama Dieci lezioni sul male e le Dieci lezioni sul male, attenzione, non sono le lezioni di chi parla adesso, non sono le mie lezioni sul male, ma sono le lezioni che io ritengo di avere ricevuto nel corso della mia storia e della mia storia e del mio contatto con i minori autori di reato. Storie a volte inaspettate, storie straordinarie, che lasciano il segno, che rimangono nella mente, che rimangono nell'anima, stampate in qualche modo nella memoria e non per caso, ma perché effettivamente a volte davvero hanno qualche cosa di decisamente fuori dell'ordinario e ci insegnano delle cose molto, molto precise. La lezione che farò oggi, questo intervento di un'oretta sul tema della criminalità minorile, si divide in due parti. Avrò una prima mezz'ora in cui cercherò di delineare alcune caratteristiche del crimine minorile in quanto tale. Questa parte prende il titolo del primo capitolo di quello che sarà il libro di cui vi sto parlando, ovvero Il crimine è come la pioggia. Poi vedremo insieme perché, in che senso il crimine è come la pioggia e partirò proprio dal racconto di una storia. La seconda parte del nostro incontro di oggi invece verterà su, diciamo, una modellistica della criminalità minorile, individuando tre prototipi di autori di reato che si distinguono radicalmente tra loro per una criminogenesi completamente diversa, quindi per una causa del crimine che nasce da momenti completamente diversi, completamente differenti. Inizierò con una storia e finirò con una storia. Vedrete che è su questo che in qualche modo voglio ragionare con voi per riportare dalle storie, diciamo, quel distillato, quell'elemento di saggezza, quell'insegnamento che in qualche modo da queste storie può venire. E voglio partire da una lettera. Spesso capita che i ragazzi, così come gli adulti, qualche volta cerchino un'interlocuzione con il proprio giudice e decidano di scrivere qualcosa al giudice che ha chiaramente, signori, chi è collegato in questo momento è per la quasi totalità un operatore, quindi sapete benissimo che queste lettere, questi racconti hanno un significato difensivo, servono in qualche modo per presentarsi bene, per dire delle cose positive, ma è molto interessante perché proprio in qualche modo nel come viene raccontata una storia, se noi, come di fatto immagino quasi tutti noi siamo, operatori sociali, non abbiamo l'obbligo, abbiamo una grande vantaggio, non abbiamo l'obbligo di interrogarci sul rapporto tra la parola e le cose. La verità per noi interessa poco. In fondo che un ragazzo, che un adulto, che una persona che ha commesso un crimine, ci racconti la verità è relativamente poco importante. Quello che è molto importante è che noi siamo in grado di distillare da questi straordinari racconti che arrivano dai ragazzi autori di reato qualcosa delle proprie motivazioni, delle ragioni, della problematicità che portano e di conseguenze che ci possano aiutare ad orientare un percorso. Perché è vero che l'articolo 28 del TPR 448, quello che stabilisce l'esistenza della messa, alla prova, che adesso è diventata un'acquisizione anche del mondo degli adulti, autori di reato. Ornella, la prima volta che ci siamo incontrati era un auspicio che tu avevi formulato, io me lo ricordo come se fosse ieri. Oggi è diventata una realtà ed è una realtà estremamente interessante. Ma, ma, e lo dico soprattutto agli operatori degli USMA che vedo essere connessi, ne ho vista anche un'altra, dico questo, la messa alla prova non può e non deve mai essere una fotocopia. non può essere un oggetto senza creatività, senza intelligenza. Vero è che a seconda dei territori ci sono risorse diverse, ma la possibilità che offre il TPR è quella di costruire un atto creativo che non può che partire dalle ragioni che noi abbiamo, noi come operatori sociali, indipendentemente dalla nostra formazione, ci saranno psicologi, ci saranno assistenti sociali, ci saranno educatori, sicuramente connessi, ma indipendentemente dalla formazione di ciascuno, un'idea, un'ipotesi, magari sbagliata, sul perché quella persona, quell'individuo, quel ragazzo, si è trovato a considerare che in fondo commettere un reato fosse da qualche parte nella sua mente una cosa conveniente è una faccenda con la quale dobbiamo avere a che fare. Dobbiamo interrogarci, dobbiamo risponderci, dobbiamo formulare un'ipotesi, perché su quella ipotesi si costruisce un progetto di recupero. Senza un'ipotesi sensata i progetti di recupero diventano tutti uno uguale all'altro. Il nostro lavoro viene sbilito, diventa un lavoro noioso e poco gratificante e gli effetti che otteniamo sui minori che trattiamo diventano magari non nulli, però diciamo funzionano come anche un orologio rotto segna l'ora giusta una volta al giorno, come si dice. Quindi diciamo, lanciando a caso una messa alla prova può darsi che nel mucchio qualcosa funzioni, ma il punto è che questo sistema è un sistema, lo dico subito, costoso dal punto di vista delle competenze, che richiede tutta la nostra capacità creativa, tutto il nostro impegno, tutta la nostra volontà. Allora, veramente, riusciamo a fare delle cose straordinarie. Ma veniamo al primo caso, Maurizio. Maurizio ha 17 anni, una rapina a mano armata già alle spalle, quindi già già in messa alla prova per una rapina a mano armata e durante questo periodo della messa alla prova si trova a commettere un secondo reato e scrive questa letterina, questa lettera interessante al giudice. Vorrei da subito che chi è connesso ragionasse, no, su quello che ci troviamo di fronte e magari se, non so se questo è previsto, ma se avete voglia di fare degli interventi, di dire delle cose, a me personalmente farebbe molto piacere se è previsto dal modulo, ma chiedo a Arnella se posso permettermi di... Ecco, perfetto, mi dice di sì e quindi benissimo. Se ne avete il desiderio, per me sarebbe sicuramente una bella cosa se soprattutto quando presento questi due documenti che presenterò nel corso di questa lezione, magari ci potrebbe essere un piccolo momento di scambio, qualche minuto e qualche riflessione. Se viene, se viene, sarebbe sicuramente bello perché creiamo anche un po' di coinvolgimento. Ecco, Maurizio. Mi sono trovato agli arresti domiciliari perché ho commesso un grave errore. Ho malmenato un ragazzo di 17 anni. Tutto ha avuto inizio più o meno ai primi di novembre. Questo ragazzo di nome Ahmed era in classe con la mia ragazza ed era da tempo che la importunava, scherzava, la molestava, le diceva parole bruttissime e oscene. Questa storia durava da mesi, era stato richiamato dai professori e dal preside, ma il suo atteggiamento non cambiava. Così, il fratello della mia ragazza l'ha chiamato al cellulare per dirgli di smetterla perché la mia ragazza non gli aveva fatto nulla. Tutti i tentativi erano però inutili, il ragazzo continuava a importunarla. Spesso Gisella, la mia fidanzata, veniva addirittura a casa da scuola prima della fine delle lezioni e telefonava sia a me mentre ero a lavorare che a suo fratello. Piangeva, diceva di non poterne più e di aiutarla. c'è stato un periodo in cui addirittura non voleva andare più a scuola a causa degli insulti di questo ragazzo. Così, io e suo fratello abbiamo preso la decisione di andare direttamente a parlargli di persone. Se le parole poi non fossero state sufficienti avremmo visto lì cosa fare. Non l'avevamo mai visto prima e sapevamo solo il nome dove abitava. Si trattava di uno di quei giorni in cui Gisella era tornata prima dalle lezioni piangendo. Lei lo aveva più volte avvertito. Se vai avanti il mio ragazzo ti fa la faccia nera. Non potevo certo tirarmi indietro. Io e il fratello ci siamo allora decisi e siamo andati con la sua macchina. Erano circa le 21 e 30 quando siamo arrivati nel suo paese. In centro abbiamo avvistato un gruppo di ragazzi loro lo conoscevano e hanno capito subito che ci sarebbe stato movimento. In più nessuno di loro nessuno era amico di Ahmed che sembrava avesse fama di essere una testa calda. Loro sapevano però che frequentava un certo bar. Ci hanno portato al bar sono entrati ma lui non c'era. Allora abbiamo deciso di offrire un caffè a questi ragazzi anche per farceli amici in modo che non ci fossero problemi. Intorno alle 22 uno dei ragazzi che abbiamo conosciuto ci ha detto che Ahmed era arrivato ed era fuori dal bar. Allora io ho pagato e siamo usciti. Ho pagato. Io ho chiesto se era Ahmed e quando ha risposto di sì gli ho detto che volevamo parlare. Vedete diplomatico eh eh non potete pensare no? Diplomazia. Lui ha capito subito si è messo a urlare e a chiedere aiuto poi ha cercato di spintonarci mentre urlava. Io non ci ho visto più perché pensavo che urlando lui sperava di trovare aiuto e di farla franca. Allora siamo stati presi dalla furia e gli abbiamo dato delle botte molte sferrando calci e pugni in varie parti del corpo. Questo è finito in ospedale è un'aggressione grave questa non è un'aggressione da poco. È successo tutto in pochi secondi non mi sono pienamente reso conto di quello che stavo facendo. Dopo una manciata di secondi sono usciti i baristi per vedere cosa era successo e hanno soccorso il ragazzo. Io e il fratello di Gisella per paura di quello che avevamo commesso siamo fuggiti con la macchina e siamo tornati a casa. Mentre picchiavo quel ragazzo dentro di me si era scatenata la rabbia per quello che sapevo che aveva fatto alla mia ragazza. Ho cercato di risolvere il problema ma non sono riuscito a risolverlo nel migliore dei modi perché ho voluto risolverlo a modo creando dei danni attenzione a questo passaggio a me stesso e alla società. Allora beh intanto la prima cosa la dico io così rompo il ghiaccio però guardate se questa lettera vi ha fatto sovvenire qualche riflessione puntuale siamo stringati ma mi buttate lì qualche qualche elemento che magari vi è venuto in mente sicuramente vediamo un uso sicuramente seduttivo del linguaggio abbiamo detto che non ci interessa il rapporto tra la parola di Maurizio e la verità quindi è evidente che lui non è andato in quel luogo con l'intenzione di fare una chiacchierata amichevole con il caro Ahmed ed è anche vero forse che magari c'è stato bisogno di molte meno insistenze perché lui decidesse di muoversi a questo tipo di missione punitiva diciamo però vediamo che ha imparato bene a usare il linguaggio degli operatori il linguaggio delle istituzioni perché usa in modo molto seduttivo l'elemento gergale sa utilizzare bene le parole ricordo un ragazzo che da questo punto di vista secondo me comunque rappresenta un punto di riferimento che nel primo colloquio dopo la commissione di un crimine io gli chiesi ma come mai secondo te siamo qui e lui mi disse siamo qui per pagare il mio debito con la giustizia queste diciamo sono frasi fatte e in parte anche 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 il nostro Maurizio no ha tutto un insieme in qualche modo di locuzioni costruite apposta per noi no costruite apposta per noi e poi cosa vediamo vediamo tante cose vediamo che paga il caffè vediamo che ha degli amici vediamo che è una brava persona vediamo che ci tiene a sottolineare tutto questo potrebbe essere sembrare no superfluo dire che paga il caffè ma lui dice non esce senza pagare anche se in quel momento era c'era un momento di concitazione ma lui ci tiene a far vedere no che da un certo punto di vista moralmente eh moralmente è è ineccepibile ma ci dice anche tante altre cose però ecco adesso vi chiedo ecco se c'è qualcuno che eh vuole dirmi qualcosa vuole aggiungere una suggestione un qualcosa che sia venuto in mente vedo che siete tutti operatori quindi sicuramente siete abituati a questo tipo di di comunicazioni da parte dei ragazzi se c'è qualcuno basta che prenda la parola eh disattiva il microfono magari anche la telecamera e ci dice chi è e e la propria riflessione no c'è timidezza va bene eh allora proviamo vado un pochino vado un pochino avanti vediamo che lui riconosce più o meno implicitamente no che ci sia una difficoltà ad arginare gli impulsi lui stesso in qualche modo anticipa quella che potrebbe essere il contenuto di un ideale perizia perché quasi ce lo dice in quel momento io avevo perso il controllo in quel momento non ero capace di intendere sembra quasi volercelo volercelo dire in questo caso per lui non è una questione tecnica ma è più una giustificazione è più una giustificazione morale e vediamo come in tutta questa racconta lui dipinga se stesso in modo estremamente positivo buono onesto mentre la vittima in qualche modo viene dipinta con tratti negativi tanto che in qualche modo sia la scuola sia gli amici perfino quelli del suo paese in qualche modo lo mantengono ai margini e quindi diciamo questa diventa una figura in qualche modo negativa un soggetto da punire lui dipinge questo reato questa aggressione come attraverso un meccanismo che bandura un importante psicologo che si è occupato dei meccanismi morali di difesa rispetto ai reati ai crimini che si commettano chiama poi giustificazione morale è la vittima che in qualche modo diventa colpevole quindi nel ragionamento nella narrazione che ci propone Maurizio c'è questo scambio per cui a un certo punto sembra quasi che no che la vittima che lui ha aggredito sia il colpevole perché maltrattava la sua ragazza perché diceva parole bruttissime quel giorno stesso la ragazza era rimasta a casa da scuola perché non voleva sentire queste bruttissime parole che 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 Ahmed le diceva e quindi diciamo il gruppo e lui all'interno di questo gruppo e Maurizio diventa un giustiziere diventa un avenger diventa uno che risolve il problema diventa uno che ripara un torto non uno che ne commette e guardate il dettaglio io immagino che al di là insomma magari della difficoltà a prendere la parola in un contesto così secondo me molti di voi l'hanno notato ne sarei sicuro di questo finale particolare no ho cercato di risolvere il problema ma ho sbagliato perché ho voluto risolverlo a modo mio creando dei danni a me stesso e alla società cosa manca signori cosa manca manca la vittima no cioè si è dimenticato non si è accorto non si ricorda più che il soggetto il primo soggetto danneggiato dal suo reato è quello che si ritrova con alcune fratture ricoverato in ospedale mica mica una cosa da poco ma una cosa piuttosto evidente piuttosto chiara ecco ehm questo è un una prima suggestione ho voluto cominciare da qui perché in qualche modo mi sembra che per questo ragazzo come per la stragrande maggioranza dei minori autori di reato una delle prime caratteristiche delle prime cose che ci insegnano i minori autori di reato è proprio il fatto che in fondo il il ciò che è stato commesso viene vissuto come qualcosa che in fondo non ti appartiene non appartiene ad una tua reale cattiveria ad una tua voglia di fare del male non è cosa che faccia parte di te è un tema che riguarda la responsabilità e lo sapete benissimo tutti gli operatori lo sanno i minori autori di reato quando arrivano la prima volta in USMA quando arrivano la prima volta in IPM quando arrivano in CPA non hanno l'idea della loro responsabilità nel contesto del reato ma che cos'è la responsabilità che cosa significa essere o non essere responsabili la sensazione che ha Maurizio sicuramente è quella che questo questa vittima in qualche modo che lui dimentica che lui perde quindi il reato c'è e ha danneggiato soprattutto me stesso e la società non c'è non c'è la vittima nel suo pensiero non c'è qualcuno danneggiato dalla sua azione non c'è neanche un'azione che danneggia c'è un'azione che ripara semmai che ripara un torto bisognerebbe ringraziarlo in un certo senso se seguissimo l'onda emotiva del suo ragionamento siamo nella fase zero siamo nella fase in cui sono tutti i ragazzi quando arrivano la prima volta in un servizio che si occupa di crimini siamo in una fase in cui il reato viene da fuori come la pioggia come un fenomeno atmosferico come qualcosa di cui tu non senti di fare parte ecco in questo senso un mio collega molto bravo e che io nei confronti del quale ho grande stima Alfio Maggiolini sostiene che il concetto di responsabilità sia collegato alla capacità di una persona di farsi carico delle conseguenze ultime di un'azione io non penso che questo sia il punto cardinale nel caso dei minori autori di reato certo può essere un passaggio importante però il tema delle conseguenze ultime di un gesto è un tema che anche dal punto di vista del codice penale diventa una questione perché ci può essere anche il reato preterintenzionale ci può essere anche il reato colposo allora in un reato colposo diciamo una persona che non vuole uccidere nessuno ma che va in auto e per caso ha un incidente qualcuno muore ma non ha mai desiderato uccidere nessuno è un caso di un reato particolare c'è quello della preterintenzione cioè il reato in cui magari una rissa uno cade si fa male muore ma non c'era la volontà di uccidere c'è un'azione aggressiva ma non c'è l'intenzione di uccidere quindi le conseguenze che vanno oltre le intenzioni e poi c'è effettivamente il reato volontario cioè quello che è stato pensato ma nei casi dei minori autori di reato il reato diciamo volontario nel senso di pensato ragionato voluto fortemente meditato prima premeditato è un caso rappresenta un caso assolutamente raro anche quando c'è una narrazione interna prima capita spesso che questa narrazione prenda dei contorni irreali dei contorni favolistici dei contorni deliranti quindi in cui davvero ci si accorge che poi quando invece il reato infatti viene messo in atto poi ci sono delle azioni molto poco accorte che fanno spesso sì che il minore autore di reato venga colto nella flagranza del reato ricordo da questo punto di vista è un caso che mi piace citare spesso il caso di questo ragazzino che aveva scoperto una via per entrare nell'istituto scolastico di notte nel proprio istituto scolastico nell'ITIS che frequentava e lui si addentrava passava del tempo in palestra andava nell'ufficio del preside e viene colto in flagranza di reato mentre cerca con del nastro adesivo di caricare il computer del dirigente scolastico che era un computer di quelli vecchi con lo schermo grande tipo quello dei vecchi televisori quindi uno schermo gigantesco cercava di piazzare questo computer sullo scooter sullo scooter con del nastro isolante con cui cercava di fissare questo oggetto chiaramente di notte nel cercare di fare quest'operazione oggetti che cadono rumori eccetera è intervenuta immediatamente una volante che lo ha e lo ha catturato questo è un segnale in qualche modo di questa sensazione che in qualche misura quello che sta accadendo non ti appartenga meglio ancora la storia di quei ragazzi che al sud potrei sbagliarmi ma mi pare l'ho letto come caso di cronaca è accaduto credo in Sicilia alcuni anni fa avevano ucciso una coetanea e l'hanno gettata in un pozzo anche loro colti più o meno sul fatto sono stati arrestati e hanno deciso di raccontare tutto di rendere piena collaborazione piena testimonianza ma quello che riportava con sgomento il giornalista che raccontava di questo episodio era il fatto che al termine del racconto questi ragazzi avessero detto vabbè abbiamo collaborato abbiamo detto tutto e ora possiamo immaginiamo tornare a casa quindi come se diciamo quello che loro dovevano fare fosse stato fatto ecco la responsabilità l'assenza del senso di responsabilità la sensazione che quello che è accaduto non appartenga a te ma più a qualcosa di accidentale che succede all'esterno è la condizione che io considero quella più comune direi quasi naturale per i minori che vengono trovati a commettere un reato e si trovino per la prima volta a fronteggiare qualcuno che come facciamo noi come fate voi tutti i giorni usa la parola quindi mette in parola delle cose e loro che invece avevano lavorato proprio nel coltivare una dimensione di silenzio quindi il reato soprattutto certi reati di gruppo molto gravi penso ai reati sessuali di gruppo nascono in una condizione di silenzio noi facciamo qualcosa di eversivo invece cari colleghi cari colleghe perché noi mettiamo una parola noi pretendiamo che ci raccontino e noi stessi diciamo delle cose e questo rappresenta l'irruzione di una dimensione di logos di pensiero in un luogo in cui il pensiero non c'è questo è l'elemento per loro scandaloso ma anche il motore di uno straordinario possibile cambiamento attenzione cioè questo è quest'elemento straordinario che noi vediamo proprio in quei racconti in cui comprendiamo che il reato davvero non è pensato e che il minore Maurizio per primo non si sente dentro quello che ha commesso non solo non si sente colpevole guardate non è un fatto morale tanto meno moralistico certo che Maurizio non si sente in colpa ma il problema è che Maurizio non si sente nemmeno colpevole non sente di essere stato lì ecco questa è la proposta è una proposta che io faccio invece di ragionare sul tema della responsabilità nei termini di una connessione ipotetica che noi facciamo tra l'azione commessa e il risultato che hai ottenuto quindi relazionarsi sul visito finale dell'azione che hai fatto io propongo in realtà qualcosa che ha molto a che fare con un tema gergale molto usato dagli adolescenti starci dentro ecco loro lo dicono ci sto dentro cosa vuol dire ci sto dentro ci sto dentro vuol dire che mi piace mi va bene ci sto è un tema è una locuzione interessante perché in qualche modo introduce un tema topologico cioè dice dove sei sto di dentro dentro qualcosa sto dentro un racconto dentro una narrazione dentro un episodio ma anche dico di sì quindi ci vieni stasera in discoteca oh ci stiamo dentro ecco sta roba qua vuol dire sì significa ok ecco questa dimensione di assenso unita al riconoscimento della propria presenza simbolica è esattamente signori il punto di arrivo di qualunque operatore che lavori nell'ambito della giustizia minorita qualunque operatore che ha a che fare con Maurizio che scrive questa lettera e che ci fa capire che è all'inizio di un percorso era già immessa alla prova non è servita a niente quella messa alla prova a niente non ha neanche cominciato questa è la lettera di qualcuno che rispetto alla responsabilità ancora vive il reato come un fenomeno atmosferico come un fatto esterno non si relaziona con il danno che ha prodotto non lo pensa nemmeno non pensa nemmeno di avere fatto un danno pensa di aver fatto un danno a se stesso perché l'hanno messo perché l'hanno incarcerato perché lo hanno ristretto allora rispetto a questa sua condizione lui si rende conto che ha fatto male a lui magari a sua madre magari a suo padre magari alle persone che gli vogliono bene ma non alla vittima ma si dimentica della vittima e si dimentica perché lui continua a pensare di avere fatto un bel gesto di avere fatto un'azione che in qualche modo doveva riparare a un torto quindi fondamentalmente non è ancora nella posizione in cui riconosce il fatto che lui lì c'era ci ha messo del suo gli è piaciuto gli piace alzare le mani ha accettato volentieri la proposta della fidanzata di andare a riparare questo problema che aveva con questo ragazzo che chissà forse gli ha fatto una battuta magari una volta non lo sappiamo o magari più volte può darsi anche che sia avvenuto esattamente con la drammaticità con cui ce lo racconta Maurizio ma tant'è Maurizio lì è all'inizio è al principio di un percorso come i ragazzi della fanciulla poverina seppellita in quel pozzo che pensano di poter tornare a casa ecco lì siamo proprio al principio di un percorso alla fine di questo percorso e lì c'è tutto il nostro lavoro tutto il nostro impegno se funziona a un certo punto c'è un riconoscimento del proprio esserci stati e iniziano delle riflessioni ricordo per esempio che forma arrivano queste riflessioni una forma concreta i ragazzi con cui abbiamo a che fare sono persone che tendenzialmente usano un pensiero piuttosto concreto nell'affrontare la realtà però ci dicono delle cose ricordo l'autore di un più giovane tra gli autori di un omicidio divenuto famoso quello di Desiree Piovanelli che disse a un certo punto proprio in quel momento in cui cominciava a ragionare su quello che era successo dice io a un certo momento quando sono arrivato lì davanti alla cascina dove mi avevano detto vieni non fare il frocio vieni a vedere perché vedrai che ci sta con tutti e lui era andato un po' speranzoso poi ha detto se le cose si mettono male io sono quello un pochino più evoluto forse riesco a metterci una pezza magari riesco anche a fermarli ma quando arriva lì e questa è un'immagine che gli torna in mente gli torna in mente più volte dice io ho visto una goccia di sangue una goccia di sangue sulla scala e lì ho capito e lì ho capito che non poteva andare come dicevano loro che le cose stavano andando diversamente che avevano preso una brutta piega e allora a quel in quel momento lui si rende conto che succede che lui è di fronte all'ultimo momento della sua storia di questa terribile storia in cui lui può prendere una decisione consapevole andare via o restare lì entrare dovremmo interrogarci su con quali fantasie ma non è questa non abbiamo il tempo per poterlo fare però ci diciamo questo che quando qualcosa succede quel qualcosa ha a che fare con la nostra la vostra capacità quotidianamente di interrogare la parola il pensiero di questi ragazzi quando emerge la consapevolezza il bagliore il primo bagliore dell'alba di questa consapevolezza di essere stati lì di starci dentro nella commissione di quel reato allora evocheranno delle immagini vi arriveranno delle immagini in cui in qualche modo diventa un po' implicito il fatto che sì c'è stata una scelta sì ci sono stato sì comunque io ho deciso di entrare sì l'ho fatto perché pensavo boh di difenderla di aiutare di fare non potevo non andare d'accordo però hai deciso di entrare e non hai nemmeno preso in considerazione un'altra ipotesi ecco qui vediamo qualcosa no vediamo qualcosa lui a un certo punto lo stesso ragazzo dirà la cattiveria per me è una maschera che si mette per far vedere agli altri che sia capaci ecco anche questa è una riflessione che dice qualcosa cioè si sta muovendo qualcosa quindi se Maurizio e i ragazzi che hanno seppelito la ragazza nel pozzo vogliono tornare a casa sono al punto zero in cui il reato è come la pioggia già quello che ho chiamato Hermes per non usare il suo nome di battesimo reale autore dell'omicidio di Desiree quando dice le cose che dice in qualche modo sta già facendo un passo sta già muovendosi verso quella dimensione di responsabilità se arrivate alla fine del vostro alla fine però non all'inizio alla fine del vostro percorso con dei ragazzi che riescono a riconoscere il fatto di essere stati lì il fatto di esserci stati di non avere detto di no che forse senza di loro il reato sarebbe avvenuto diversamente o non sarebbe avvenuto del tutto magari beh avete fatto un grande lavoro signori perché questa è l'anticamera di tutto quello che può succedere dopo però è fondamentale questo è il vero scopo di tutto il vero scopo di una messa alla prova è arrivare a quella dimensione di consapevolezza al riconoscimento di una dimensione di responsabilità rispetto a quello che succede fatemi dire un'altra cosa caspita ornella sono ancora nella prima fase e qui mi sa che non so il tempo è tiranno vi racconto un altro brevissimo caso perché vi dico un'altra cosa importantissima dei reati minorili la prima è fondamentale ve l'ho detta il reato è come la pioggia la seconda vi dico il reato minorile è una parola e la verità di quello che interessa a noi sta nel racconto che ci fanno allora penso a Gabriele Gabriele è un ragazzo che quando lo conosco ha 16 anni è uno dei primissimi casi che ho visto quando avevo 28 anni quasi la metà di quelli che ho adesso pensa che disastro ornella cioè quanto tempo che trascorre ebbene in quel momento quando incontro quel ragazzo avevo ancora un'idea un pregiudizio fondamentalmente cioè che il minore di reato fosse un soggetto tendenzialmente con una difficoltà a contenere gli impulsi una persona sempre aggressiva piuttosto pericolosa una persona che mi avrebbe fatto presumibilmente paura nel lavorare con i minori autori di reato ovviamente credo di non dire una cosa nuova per molti per quasi tutti quelli che mi stanno seguendo quella categoria di ragazzi che commettono reati perché non riescono a contenere l'impulso trasgressivo l'impulso aggressivo sono una minoranza ci sono sono i figli delle cattive famiglie sono i figli abbandonati dimenticati lasciati andare da genitori che non sono riusciti a iscrivere le regole del bene e del male nella loro personalità non hanno un giudice interno che li ferma qualsiasi provocazione deve essere riparata deve essere riparata con i fatti allora in questo caso siamo di fronte al minore aggressivo quando incontro Gabriele pensavo ancora che fossero tutti così o che fosse così la maggioranza e arriva questo ragazzino magrissimo un po' impaurito timido timidissimo con me dopo un po' si lascia un po' andare però mantiene questa timidezza per farvi capire ricordo che teneva il telefonino durante i colloqui io non lo impedivo e quando a un certo punto riceveva certe telefonate vedo che non risponde dico ma perché non rispondi se vuoi lo puoi fare e lui mi dice no perché è una ragazza sai io se è una ragazza devo essere in certe condizioni non è così facile parlare con una ragazza e Gabriele mi viene presentato dall'assistente sociale di riferimento per me l'assistente sociale lo sapete in USM l'assistente sociale è il capo quindi quando arriva quando mi viene portato Gabriele mi viene detto guarda non sono reati gravi però non capiamo il perché ma c'è una continua reiterazione è la terza volta che viene arrestato dico Gabriele raccontami dice no la prima volta ero allo stadio con dei miei amici e i miei amici vanno in curva e io cosa dovevo fare per stare con loro per non lasciarli soli sono andato in curva anch'io però i miei genitori mi spiega mi avevano appena regalato un telefonino bellissimo di ultima generazione sarebbe oggi l'equivalente di un iPhone 13 almeno allora dice avevo questo telefonino e quando a un certo punto siamo lì in curva noto che c'è una carica della polizia la polizia carica proprio nella nostra direzione e io a quel punto cerco di scappare ma mi cade il telefonino oggetto no che va per lui questo valore particolare mi giro mi piego per raccogliere il telefonino non posso farlo perché sennò esco dalla telecamera non mi vedete più e si perde l'effetto scenico quindi è inutile che lo faccia mi cade il telefonino mi piego e i carabinieri che addetti alla sicurezza dello stadio pensano che io voglia prenderli attestate e allora mi caricano sul cellulare ovviamente lo diciamo lo trattano come tipicamente si trattano i ragazzi che vengono considerati aggressivi in queste circostanze e viene arrestato per la peruola dico ma Gabriele però so che sei stato arrestato altre due volte dice sì ma la seconda volta mi trovavo a Brescia alla stazione era tardi era sera era inverno buio e una giornata di piogge quindi piove sera buio ed ha un'apertura una feritoia del di quelle che si aprono per scolare l'acqua nei marciapiedi sento un miagolio ma un gattino allora caspita io mi sono subito lanciato per cercare di salvargli la vita ho pensato che sarebbe annegato dentro quel incastrato dentro quella feritoia allora vado e con la mano cerco di tirarlo fuori in quel momento vedo una luce blu sono i lampeggianti della polizia e mi fermo e mi dico cosa stai facendo scusa Teli dice no adesso c'è qui stavo cercando di tirare fuori il gattino ma per caso dice lui si trova nelle mani un pugno di ferro uno di quei sapete come sono no cioè sono quelli è un'arma impropria quindi diciamo è un una sorta di anello di ferro che ricopre tutte le dita e che serve a diciamo a dare dei pugni che però fa parecchio male ecco diventa veramente una vera e propria arma e quindi arresto per possesso d'acqua va bene e la terza volta c'è la terza volta mi trovavo nel mio paese lui non è di Brescia ma era di un paesino dimitrofo e a un certo punto vedo che arrivano i ragazzi del paese a fianco gente che conoscevamo sapete che c'è sempre un rapporto spesso un po' teso tra paesi dimitrofi e quelli arrivano ha detto tutti vestiti come dei fighetti ha detto proprio proprio me lo dice così quindi belli con degli oggetti di lusso addosso e anche lui come Maurizio descrive questo incontro diplomatico come se una delegazione di ambasciatori andasse ad accogliere questi ragazzi che erano venuti in visita nel suo luogo di vita ebbene racconta e dice sì abbiamo parlato abbiamo dialogato a un certo punto i ragazzi sono andati via si sono accomiatati da questa delegazione pontificia ma volevano lasciare qualcosa per ricordare questo nostro incontro e non avendo portato nulla con sé uno di loro ma guardate che lo racconta proprio così ha deciso di lasciare il suo portafoglio quindi rimane da questa visita dei ragazzi del paese a fianco questo portafoglio che rimane in mano al gruppo di Gabriele e il portafoglio viene infilato effettivamente nella tasca di Gabriele dove viene reperito perché pochi minuti dopo intervengono le forze dell'ordine chiamate da quegli altri notate bene che non è indifferente il gruppo rimane lì quindi rimane nella piazzetta del paese al centro della piazzetta del paese su un muretto dove erano soliti trascorrere parte del proprio tempo con il portafoglio rubato finché arrivano i carabinieri e arrestano chiaramente chi? Gabriele il quale in questo caso si ritrova a essere vittima dei propri stessi amici i quali hanno chiesto preteso che fosse lui a tenere l'oggetto del reato l'oggetto del furto molto interessante cosa notate? ci provo ancora Ornella provo ancora a sentire se qualcuno c'è qualcuno che nota qualcosa in questi racconti? ve lo dico vi aiuto una similitudine cioè guardate che è lo stesso canto è lo stesso racconto che si ripete sono diversi luoghi sono diverse le circostanze ma il clima emotivo non è forse sempre quello non è identico a se stesso in fondo questo ragazzo Gabriele questo ragazzo magrolino è un po' impaurito anche solo di parlare con delle ragazze e in tutte le situazioni in cui si trova coinvolto nei reati nel suo racconto lui è in una posizione fragile estremamente fragile direi quasi di vittima designata addirittura dei suoi amici nell'ultimo racconto ma quel gattino rispetto che cercava aiuto è un'immagine interessante è un sogno attenzione lo dobbiamo prendere così con lo stesso potere esegetico di quando il paziente ci racconta un sogno non è niente vero lui chiaramente era in giro tutti quanti che era in giro con un pugno di ferro che forse ha cercato di nasconderlo dentro nella ferita non ci interessa nulla però ci interessa che lui a noi racconta per difendersi che lui stava per giustificarsi che lui stava cercando di proteggere un piccolo gattino che rischiava di morire annegato nel freddo e nella notte bresciana beh un racconto interessante in cui c'è chiaramente un aspetto di identificazione tra lui e questo gattino e anche la prima volta in fondo quando gli cade il cellulare e i carabinieri pensano erroneamente che lui voglia voglia prenderli a testate stia reagendo in maniera aggressiva in fondo che lui proteggeva un oggetto fragile che lui stava perdendo il segno della benevolenza dei suoi genitori un oggetto prezioso ma anche dal punto di vista simbolico e allora qui vediamo qualcosa vediamo uno di quei reati che nascono da una condizione di fragilità non è così per tutte le categorie di reato adesso vedo mi accorgo purtroppo che non ho il tempo di farvi quella seconda parte in cui dicevo vediamo le tre diciamo traiettorie esegetiche tre interpretazioni classiche del reato però se abbiamo già detto qualcosa dei reati commessi per aggressività non arginata quindi quei ragazzi che sono diciamo figli di famiglie multiproblematiche e quindi che costruiscono non riescono ad arginare l'aggressività perché non hanno interiorizzato quell'argine quindi quel tipo di soggetto che è il via col vento della trasgressione minorile cioè è il classico e siamo talmente abituati a pensarli così che ancora chi non fa il nostro lavoro pensa appunto che siano tutti quanti così poi ci sono però quelli che fanno parte della criminalità organizzata che fanno parte dei gruppi che fanno parte delle realtà che sono al di là di loro e che costituiscono un regime totalitario rispetto al loro pensiero a cui loro aderiscono quindi quello è lo stesso meccanismo con cui avviene l'olocausto in cui parlo della seconda guerra mondiale in cui ce lo dice Hannah Arendt lì l'uccidere l'altro non viene fatto per piacere per godimento personale per sadismo ma perché si seguono degli ordini di altri e così anche tutti i minori coinvolti in vicende criminose perché connessi alla dimensione della criminalità organizzata in qualche modo seguono quello stesso itinerario ma ce n'è una terza categoria ecco quindi appunto non approfondisco oggi questo tema magari ci saranno altre occasioni c'è una terza categoria a cui indiscutibilmente appartiene Gabriele è la categoria dei ragazzi che si trovano di fronte ad un rapporto con il mondo in cui loro sono perdenti e il mondo sta vincendo la partita quindi in cui loro sono gli ultimi degli ultimi c'è una fragilità straordinaria questi non sono Gabriele non è figlio di una cattiva famiglia attenzione non è figlio di una famiglia palesemente mancante carente abbandonica voi lo sapete che quando noi parliamo di famiglie carenti parliamo di cose evidentissime perché in fondo i bambini sono molto capaci dal punto di vista delle loro traiettorie evolutive di riparare piccole lesioni non ce la fanno a riparare le grandi lesioni perché dei genitori riescono a fare un pasticcio tale un guaio tale da generare veramente un'incapacità di arginare l'impulso aggressivo veramente si deve fare tanta roba si deve fare tanto e quindi quei genitori che mancano quelle figure direi genitoriali che possono non essere solo i genitori ma anche tutti quelli che si occupano di questi bambini non ci sono stati in modo radicale in modo drammatico non in modo sfumato quindi invece nel caso di Gabriele e di Andrea che è l'ultimo ragazzo di cui vi racconterò e vi racconterò ve lo racconterò anche qui attraverso una breve storia lì noi vediamo una straordinaria fragilità non è vero che in tutti i ragazzi c'è l'elemento della fragilità o meglio non in senso stretto come lo sto usando ora io però la fragilità come causa efficiente del reato minorile si ha solo in alcuni casi casi che vediamo sia dall'anamnesi personale quindi sia dalla storia familiare che tendenzialmente non è così tanto compromessa se non addirittura intatta senza che si vedano sbavature particolari sono spesso ragazzi non conosciuti ai servizi per capirci e usare un termine che sicuramente gli operatori che sono connessi conoscono bene possono essere persone non conosciute ai servizi e ragazzi che hanno sviluppato quest'idea di un conflitto tra sé e il mondo il mondo è nemico Gabriele pochi colloqui dopo quelli in cui mi racconta i reati prende un po' di confidenza e a quel punto si è fidanzato con una ragazza che si chiama Laura bellissima ve la descrive come stupenda e mi racconta che quando vanno in giro però e vanno nei locali nelle discoteche della zona bresciana bergamasca è un grande problema perché tutti cercano di avvicinarsi a Laura di conoscerla di concupirla qualcuno anche provoca lo stesso Gabriele che chiaramente appare come il suo compagno il suo fidanzato e allora Gabriele mi dice mi dice preoccupato dice vede dice dottore viviamo in un mondo terribile il mondo guardate che sentite come in queste parole voi sentite anche certi discorsi anche che troviamo nel mondo adulto anche nel mondo politico mi spingo a dire ecco attenzione perché è un mondo terribile c'è spieno di insidie cercano tutti quanti di prenderci quello che abbiamo di buono di portarcelo via beh dottore mi dice guardi che cosa mi tocca fare e mette una mano dentro la tasca del giubbotto e tira fuori un coltello a serramanico che deposita sulla mia scrivania dell'usmo di Brescia e io gli dico mettilo via fai una cortesia si bravo ho detto però ecco voi capite cioè questo ragazzo mi spiega che in fondo il nostro è un mondo brutale è un mondo che è un mondo che lui sente come profondamente nemico che lo umilia che lo sottomette che lo fa sentire inferiore e allora lui ha bisogno di armarsi voi pensate com'è pericolosa questa operazione che lui fa in questa ideazione delirante chiaramente persecutoria no del mondo in cui tutti tendenzialmente ce l'hanno con me tutti mi puniscono tutti mi trattano male guardate che è lo stesso principio per il quale chi prende un brutto voto a scuola manda i genitori a lamentarsi con gli insegnanti eh attenzione perché anche la valutazione scolastica e mette i ragazzi di fronte a una frustrazione a cui spesso non sono abituati e c'è chi la accetta ma c'è anche una fetta importante di adolescenti iper moderni dicendola alla Re Calcati che invece reagisce in modo reattivo reagisce eh attaccando reagisce pensando se mi ha dato un brutto voto non è perché ho fatto un brutto compito ma è perché quello ce l'ha con me è perché mi vuole male è perché è malvagio dentro è perché è un brutto mondo rispetto al quale bisogna armarsi come faceva Gabriele è la stessa identica cosa ora il tema di Gabriele è chiaramente un tema di fragilità in questo caso di una fragilità marcata depressiva il fatto che lui si senta in contrasto addirittura con i propri amici con la propria famiglia sociale è gravissimo è pericolosissimo la conferma verrà pochi mesi dopo perché la madre di Gabriele chiamerà in USM per avvisarci per chiederci aiuto in realtà per chiedere aiuto a me come psicologo perché il ragazzo non si alza più da lei da alcuni giorni e lei è preoccupatissima quindi diciamo la depressione chiaramente endogena di cui soffre questo ragazzo Gabriele è diventata evidente e in qualche modo ha confermato la diagnosi chiaramente noi attenzione l'ho detto all'inizio ma lo dico agli operatori non lo dico ai ragazzi che eventualmente assisteranno a questa lezione se noi vogliamo fare qualcosa di buono l'idea l'ipotesi l'ho detto al principio del perché di qual è la dinamica per cui avviene un reato deve essere il punto di partenza quindi noi dobbiamo chiaramente distinguere i Gabriele da quelli aggressivi e da quelli che hanno seguito gli ordini di altri o che sono stati all'interno di una dinamica di gruppo ovviamente ma dobbiamo fare anche di più dobbiamo in qualche modo articolare quest'idea generale nella situazione specifica e particolare di quel minore perché se noi riusciamo a fargli scusate mi piace sempre scherzare un oroscopo se gli facciamo una valutazione corretta la dico la dico in modo tecnico una perizia corretta o se noi come operatori siamo in grado di fare una valutazione corretta della criminogenesi dell'origine del reato allora diventiamo anche in grado di intervenire perché siamo in grado di capire in quale direzione andare signori se voi mandate a fare un'attività socialmente utile un ragazzo che commette un reato sulla scorta di un'istanza di tipo narcisistico cosa molto comune voi fate il contrario di quello che dovreste fare e quella è un'operazione destinata al fallimento è del tutto inutile mandare a curare i cagnolini un ragazzo che non sa neanche dove sta il senso di colpa che non ha nulla da riparare quello ci va tranquillamente ne ricordo uno straordinario che intanto che andava al canile prendeva gli appuntamenti per scambiarsi la droga ma signori cioè questa è la realtà con la quale abbiamo a che fare non è un'altra se sbagliamo la messa alla prova questa è la conseguenza dobbiamo comprendere il significato del reato prima di mettere in atto un'azione riparativa che sperabilmente può essere funzionale perché gli strumenti che abbiamo sono straordinari dal punto di vista legislativo va bene vi racconto l'ultimo caso un caso di un altro ragazzo del tipo Gabriele quindi del tipo che commette reati sulla scorta di una straordinaria sensazione di fragilità personologica individuale e beh io provo a raccontarvela da dentro cioè faccio faccio un'operazione attraverso come se avessi vissuto questo evento attraverso l'occhio del ragazzo ve la racconto così com'è ci mettiamo un pochi tre minuti poi dopo se non si capisce bene vi dico tutto quello che è diciamo il racconto del reato che è molto particolare in questo caso ve lo anticipo ed è molto grave dal punto di vista di quello che poteva succedere il suono della campana antincendio era continuo gli disturbava i pensieri Andrea era seduto da solo in un'aula sconosciuta dell'ultimo piano della scuola anch'esso poco frequentato nel corso dei quattro anni della sua frequenza della scuola media ungareta cercava di pensare Andrea eppure non gli veniva in mente niente maledetta campana non avrebbe saputo dire se sentiva paura rabbia tristezza avrebbe poi dovuto ogni tanto però qualche lacrima gli scendeva dagli occhi senza che lui sapesse perché era assicurante però forse in fondo allora è tutto normale gli occhi si staccavano e ritornavano sulla custodia nera della sua chitarra appoggiata sul bordo del banco come se fossero attirati da una calamita un oggetto familiare qualche volta Ilaria la sua compagna di classe l'aveva ascoltato suonare marinella gli aveva anche detto sei bravo per un istante gli era sembrato che tutto diventasse perfino sopportabile ma era durato troppo poco gli era sembrato di poter uscire da quella nebbia grigia che gli pareva avvolgesse sempre la sua vita e che gli impediva di sentire ma quel piccolo sollievo non era stato niente se paragonato all'effetto che aveva fatto su Pietro il suo compagno di classe vedere che cosa realmente contenesse in quel giorno di festa il giorno della fine della scuola la custodia nera della sua chitarra era rimasto sbalordito Pietro certo spaventato Andrea non l'avrebbe saputo dire ma mostrargli la sagoma grigio fumo della canna da fucile del padre gli aveva regalato una soddisfazione sconosciuta il fucile da caccia lucido pulito come il suo padre solleva tenerlo come un oggetto di culto e la faccia di Pietro lui che ogni tanto gli diceva sei un porco che insieme agli altri aveva girato quel video in cui gli dicevano sei uno sfigato sei solo non ti caga nessuno ridevano di lui la campana antincendio intanto aveva iniziato a suonare e continuava a suonare come è difficile pensare cercavano lui doveva fare qualcosa era già troppo tardi era l'ultimo giorno di scuola l'ultima possibilità per una resa dei conti Andrea aveva pensato molto a come sarebbe dovuto andare quel giorno aveva rimandato più volte mancava sempre qualcosa mancavano dei pezzi quando avrebbe iniziato come partendo da chi a chi avrebbe sparato per primo e poi alla fine che cosa doveva fare come sarebbe finita su internet aveva visto molte storie di ragazzi come lui che a un certo punto avevano sparato della gente a scuola avevano ammazzato altri studenti insegnanti c'era anche un film era riuscito anche a vederne dei pezzi su youtube quelli erano finiti male ma ad Andrea non importava lui fondamentalmente non importava mai niente glielo diceva anche suo padre anche se in fondo anche a suo padre sembrava importare sempre solo andare a caccia qualche volta perfino di nutrie ma che soddisfazione c'è ad andare a caccia di topi in fondo però gli veniva quasi da sorridere anche lui andava a caccia di sorci perché dietro le lacrime che rigavano il viso appunto un sorriso quelli della squadra sportiva che lo prendevano per il culo perché non sei buono non sei portato non erano meglio di quei grossi topi di fogna che cacciava suo padre andando a stanarli nella rogge eppure i profi il preside che l'avevano umiliato davanti a tutti così tante volte e perfino bocciato loro non erano certo meglio nei giorni precedenti a quello giorno della campana antincendio che continuava a suonare che l'aveva costretto a rifugiarsi all'ultimo piano scrivere i nomi di quei topi di fogna condannarli a morte con una penna nera era stato bellissimo era stato un momento di pace in cui la nebbia grigia si diradava e ad Andrea sembrava che tutto fosse chiaro aveva dedicato molte sere a scrivere i nomi solo nella sua stanza sere in cui i genitori credevano stesse dormendo erano 53 molti eppure qualcuno se lo era certo dimenticato qualcuno che meritava era stato difficile trovare e nascondere le 53 cartucce nello zaino del giubbotto sarebbe riuscito poi a trovarli tutti non era mai riuscito a immaginarsi il momento in cui avrebbe stupito tutti in cui gli occhi beffardi dei suoi compagni di classe quelli che gli davano del porco e dello sfigato avrebbero per la prima volta dietro il terrore mostrato finalmente rispetto per lui non avrebbero riso mentre caricava il fucile e sparava eppure quel momento in cui aprire la custodia e mostrare a tutti la verità non era mai riuscito a immaginarsi la campana continuava a suonare giù dal cortile provenivano sirene e voci concitate qualcosa in lui nel mezzo a pensieri che non riusciva a formulare somigliava a un sollievo ma anche all'infinita frustrazione di non essere riuscito a fare qualcosa a smetterla per sempre di essere il solito Andrea intanto mentre tremava mentre qualche lacrima cadeva a bagnare il banco di formica sembrava quasi che quel corpo non gli appartenesse quel corpo tremante e piangente in fondo lui sentiva solo una gran calma dentro gli sembrava che fosse come fuori una stanza vuota ecco si è capito? sì si è capito si tratta della storia di un adolescente di 15 anni che viene bocciato in terza media rifa la terza media e nell'ultimo giorno di scuola quando tutti i suoi compagni fanno una festa come il tipico che accade alla fine dell'anno scolastico lui si presenta a scuola con la custodia della chitarra e dentro la custodia della chitarra il fucile del padre fortunatamente quel ragazzo a cui mostra il fucile va da un insegnante l'insegnante intelligentemente non interviene direttamente chiama il dirigente scolastico il dirigente scolastico simula un incendio e quindi tutti escono dalla scuola la scuola viene evacuata e Andrea che è un nome fittizio chiaramente non nomino i luoghi altrettanto ovviamente si reca all'ultimo piano dell'istituto però la storia è verissima non la conosciamo non la conosciamo per un unico motivo perché fondamentalmente dal punto di vista del reato è un possesso d'arma e quindi è un reato che Ornella lo sa benissimo ma come molti di voi fondamentalmente bagatellare ma in realtà abbiamo veramente sfiorato una strage bene io mi fermo qui e davvero grazie Carmela te lo dico dal cuore perché vedo che vuoi intervenire e sono molto lieto di poter accogliere qualche vostro intervento che proprio adesso è l'ultima parte del nostro incontro di oggi prego Carmela sì buonasera allora io non sono operatrice sono un'insegnante e come dire ascoltando queste sue storie io ho lavorato spesso con ragazzi molto molto difficili se non erano delinquenti erano tutti potenziali delinquenti e quando lei ha parlato delle diverse categorie diciamo di reato e quindi essere capaci di individuare come dire la l'origine di queste del loro modo di fare di questi loro premetto non sono reati quelli che come c'è sì o meglio sono piccolissimi reati che possono essere la molestia il furto la minaccia cioè ci possono essere e ce ne sono ce ne sono tantissimi di questo genere e ce ne siamo trovati a come dire a fronteggiare ahimè senza averne la preparazione senza averne gli strumenti e e tuttora mi trovo a fronteggiare anche situazioni pesanti ecco e niente io volevo chiedere lo dico anche ad Ornella Favero boh forse è il caso di darci un po' di istruzioni in più su questo per dire che cosa possiamo come possiamo reagire noi almeno in queste fasi così iniziali così anzi nemmeno iniziali perché sembra che debbano per forza sfociare in qualcosa di negativo ma insomma per prevenire quello che può essere poi una un possibile reato per prevenire le 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 cadute più pesanti ecco guardi la ringrazio moltissimo e non so se ho una ricetta del genere che lei mi chiede però sicuramente ho delle cose che mi vengono in mente la prima è come forse ho accennato e sono contento che ci siano degli insegnanti il ruolo del docente in adolescenza nell'adolescenza attuale è un ruolo di straordinaria complessità per cui l'adolescente l'insegnante che riesce veramente a trasmettere il il sento di quella fatica della fatica del di ciò che insegna di apprendere ciò che l'insegnante insegna è già straordinario e recalcati su questo ha scritto delle pagine memorali ma io aggiungo mi piace aggiungere qualcosa che proprio ha a che fare con questa dimensione non con la dimensione della trasgressione perché in fondo l'adolescente tende a percepire l'atto stesso della valutazione come un atto improprio come un'aggressione la valutazione negativa è difficilissima da accettare per l'adolescente attuale che non è educato alle frustrazioni sono due gli eventi che accadono in adolescenza e che mettono l'adolescente per la prima volta in modo radicale incontrovertibile e non più non più spostabile oltre nel tempo l'esperienza della frustrazione e questi sono l'amore l'innamoramento per chi se lo concede perché profondamente c'è chi non se lo concede e il la valutazione scolastica e il rapporto con la scuola che è un rapporto di straordinaria complessità perché in fondo in un mondo che cambia in un mondo che è diventato comprensivo con genitori che tra la fine dell'ottocento e oggi in fondo hanno modificato radicalmente l'idea di quale sia il proprio compito spostandosi da un compito prevalentemente educativo Freud parlava del bambino come il piccolo perverso polimorfo una bestiolina che andava educata che andava portata in società bisogna metterlo in riga fino a oggi in cui invece lo scopo del genitore è quello di vedere un bambino felice indipendentemente da qualunque altra circostanza per cui il bambino di oggi siede nel posto d'onore della tavola familiare è lui che decide no e quella posizione lì quell'infanzia adorata quell'infanzia ipermoderna rende del tutto sconosciuta ad alcuni minori l'esperienza della frustrazione ecco perché arrivano in adolescenza del tutto impreparati ecco anche perché non si può pensare oggi mentre si poteva farlo tranquillamente ai tempi in cui io ho frequentato le scuole medie e le scuole superiori a fare senza gli psicologi per esempio cioè oggi un istituto professionale penso agli istituti più in trincea rispetto al disagio giovanile non che gli altri se la passino molto meglio però diciamo che lì proprio si raccolgono diciamo il disagio si raccoglie il disagio in maniera più palpabile e più diretta ebbene questi alcuni dei più avanzati tra gli istituti professionali si dotano di tutta una serie di strumenti di questo tipo e riescono a funzionare quindi diluendo la regola con un'assistenza quasi individuale quasi individuale qualcosa si riesce a far funzionare ma questo dipende molto dalle istituzioni dall'investimento nei confronti delle istituzioni che spesso non c'è neanche dal nostro governo e e di conseguenza dal fatto che come come in questo siamo accomunati perché sia l'area del penale minorile sia l'area della giustizia che l'area dell'insegnamento o che l'area della scuola è spesso un po' trascurata diciamo così mentre invece avremmo bisogno di risorse potenti non c'è una regola come non c'è neanche per gli operatori che si occupano di ragazzi che hanno commesso reati intendiamoci sono anzi qui in qualche modo si è notato professoressa a portare ai miei colleghi un po' l'idea di ricordarci che quello che facciamo è difficile è difficile perché richiede un atto diagnostico rispetto al quale nessuno neanche chi non è tra virgolette abilitato a fare una diagnosi vera e propria dal punto di vista clinico si può esibere lo dobbiamo fare dobbiamo costruire un'ipotesi sul perché è successo per il reato o sul perché c'è un comportamento strano da parte di un adolescente come quelli che vede lei non sono abituati alle frustrazioni prof e il e il loro mito è il blogger il loro mito è l'influencer il loro mito è un soggetto che non fa nulla cioè che non ha nessuna competenza non è il cantante rock degli anni 60 70 e 80 è il blogger il blogger è un soggetto che mi è stato fatto conoscere dai miei giovani pazienti adolescenti e che a un certo punto mi ha anche particolarmente interessato perché veramente l'ho trovato un fenomeno straordinario non so se lo conoscete se lo conoscete in profondità ma vi invito ad approfondire cioè ci sono questi ragazzi che vivono in delle diciamo in dei contesti loro cioè hanno delle zone delle case addirittura in cui stanno che hanno milioni di follower quindi sono ricchissimi perché sui social vengono seguiti tantissimo perché vengono seguiti perché sanno cantare no perché sanno fare qualcosa di straordinario neanche sono dei ragazzi bellocci che riescono a utilizzare la rete in modo molto funzionale iniziano ad avere un seguito e fanno degli scherzi li chiamano prank fanno degli scherzi tra loro ma non hanno nessuna abilità non hanno una competenza non sanno niente prof non sanno niente non sanno fare niente non hanno neanche una propria attitudine per cui ci sanno non so fare un esercizio particolare motorio per cui corrono i 100 metri in 9 secondi hanno studiato tutto dante a memoria nulla di tutto questo sono dei drop out scolastici però dei drop out scolastici milionari ecco milionari e con milioni milionari di soldi e milionari di follower quindi sono in una condizione che li rende forse le figure più invidiabili dalla generazione degli adolescenti attuali posso un attimo però in effetti quello che sta dicendo sì è così ma perché questo voglio dire il mediocre è facile da raggiungere no? cioè non devo faticare non devo lavorare non devo studiare il mediocre è milionario ancora meglio perché quello vuol dire che anche io se non faccio niente però posso sempre sì anche io avevo il mito di Raffaella Carrà che sì doveva studiare danza ma insomma non era come Carla Fracci voglio dire è nella mia immaginazione è l'esoperazione di quella roba lì però ecco è una questione di ruoli importanti e di risorse che non possono mancare non c'è una risposta facile alla sua domanda ci sono delle risorse che servono l'Italia è uno dei pochi paesi d'Europa ce ne sono se c'è Malta Cipro l'Italia e forse la Lituania uno dei paesi dell'est Europa che è senza una legge sulla psicologia scolastica tutti gli altri ce l'hanno obbligatorio ora poi in quasi tutte le scuole c'è uno psicologo a scuola come consulente però tant'è questo è un segnale di come l'Italia in qualche modo non si attivi non riconosca l'esigenza di in qualche modo dotare la scuola di strumenti efficaci per fronteggiare quello che è un problema grave perché capisce che se quella è la mitologia che si crea noi con quello dobbiamo avere a che fare è difficile cioè se lei ha quel ragazzo lì che ha il mito del blog e gli da quattro quello reagisce c'è il rischio che reagisca quindi il compito radicale importante della scuola che è quello della formazione e anche della valutazione non può essere derogato non può essere dimenticato perché è l'ultima barriera ed è fondamentale altri interventi beh allora Ornella forse ci siamo intrattenuti a sufficienza per la giornata di oggi che dici ma non lo so no io avrei cioè probabilmente poi con questo non è facilissimo ascoltare poi fare una riflessione poi però insomma a me alcune cose piacerebbero adesso vabbè forse non c'è neanche il tempo per approfondirle e così però perché mi viene in mente che nelle storie che io io poi vedo le storie quelle che tu vedi o che nella scuola vedete in fase iniziale le vedo nelle estreme conseguenze cioè quando già mi viene in mente che la storia che raccontavi del ragazzo che aveva poi un fucile dentro me l'ha raccontata dopo un ragazzo del mio gruppo che giovanissimo poi ha finito per prendersi un ergastolo voglio dire per cui questa proprio tutto il lavoro che noi facciamo nel raccontare queste storie è perché perlomeno raccontando come va a finire la storia in qualche modo mettiamo i ragazzi di fronte alle conseguenze di certe azioni perché quando tu dicevi il reato come la pioggia cioè assolutamente non compreso nella nella sua gravità ecco l'operazione che noi proviamo a fare non so se sia giusta ma che proviamo a fare è prima ancora che li commettono i reati di far capire di far vedere che non è come la pioggia naturale ma ha determinate conseguenze cioè ti porta da cioè noi di vita rovinata ne vediamo tante quando certi ragazzi della relazione si raccontano in fondo ecco fanno fanno vedere le conseguenze fanno vedere dove si va a finire quindi è un'esperienza che io trovo molto molto trovo importante quella di provare è una strada la nostra quella di provare a raccontare dove 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 sfocia poi quella storia inizialmente così come la pioggia è semplice così poco capita nella sua gravità ecco quindi non lo so questo è quello che facciamo noi per esempio con questo progetto non so se abbia se abbia un senso però io ce lo vedo così è il senso è quello proprio che dicevo prima cioè in fondo il nostro scopo comune di operatori tutti che abbiamo che hanno a che fare con la criminalità minorile è quello di portarci dal punto zero della responsabilità in cui non ci stai dentro per usare questa locuzione giovanilistica che però è molto chiara quindi sei fuori da quella roba lì a un punto in cui invece tu c'eri eri lì eri nel luogo simbolico in cui è avvenuto quel fatto quel reato ci devi lo devi attraversare ci devi avere a che fare questo per esempio nei gruppi di coimputati di reati sessuali avviene piuttosto facilmente perché lì l'ho detto il cortocircuito rispetto alla dimensione della parola è spesso totale per arrivare a quella condizione nessuno ne deve parlare prima se ne deve parlare il meno possibile il silenzio è un ingrediente fondamentale del reato sessuale di gruppo questo quasi sempre è in adolescenza intendiamoci quando noi mettiamo i coimputati in una stanza insieme e facciamo un lavoro di gruppo lì accade qualcosa di devastante per alcuni di loro si tratta di fronteggiare tutto insieme la dimensione della colpa e quindi spesso ci troviamo di fronte a delle situazioni anche complesse da gestire io però vi invito vedo che ci sono moltissimi operatori degli USM di tutta Italia in questo gruppo e davvero li saluto con straordinario affetto tra l'altro dico anche permettimi di farlo nel www.maurogrimoldi.it mi trovate tranquillamente se c'è bisogno di qualsiasi cosa per me è veramente un piacere quindi lo faccio lo faccio volentieri come l'ho fatto oggi per Ornella che conosco da tanti anni e veramente mi sono contento se capitano occasioni di incontro e di collaborazione anche con i servizi ma guarda poi adesso non so se c'è qualcun altro che vuole ma noi abbiamo proprio partendo da un progetto che aveva a che fare con le scuole siamo arrivati a desiderare proprio di coinvolgere il settore minorile perché ci sembrava che ci mancasse un pezzo no? cioè ci avevamo voglia di misurarci anche con questa realtà cioè di quella la realtà dei ragazzi che già hanno fatto qualcosa non soltanto insomma nella scuola ma anche di quelli che già hanno fatto delle prime scelte sbagliate perché per cercare di capire dove cioè per cercare insieme di capire dove si può fermarli perché io vedo vite rovinate e quindi mi fa star male questa cosa dove si vite di ragazzi giovani dico se un ragazzo ha 21 anni si prende un ergastolo a parte la monstruosità però insomma io ne ho visti più di uno quindi abbiamo messo insieme questa questa realtà che vede la scuola il settore minorile proprio per cercare di mettere in campo tutti gli strumenti per cercare di di agire insomma prima che si arrivi ai disastri che poi vediamo in carcere ecco e assolutamente sì bisogna sempre tenere in considerazione in maniera adeguata il fatto che per il minore in quel momento il reato è una fantasia di recupero maturativo cioè un modo usano la terminologia di Arnaldo Novelletto che poi è stata ripresa da Charmeda tutto il gruppo del Minotauro eccetera ma anche da Tommaso Senise ecco tutto quel discorso nato dalla psicanalisi dell'adolescenza a partire dagli anni 80 aveva a che fare proprio con il riconoscimento a mio parere realissimo del fatto che l'adolescente nel mettere in scena il reato sta in realtà risolvendo un problema e quindi è questo che invitavo in qualche misura a fare al di là dell'aspetto antisociale quindi se noi incarniamo semplicemente l'autorità duplichiamo qualcosa che già succede cioè se gli diciamo non farlo perché non è una bella cosa lo sanno già quello che è più complicato da fare ma che è essenziale è capire perché invece per loro è conveniente perché per noi non lo è cioè è quello iato che dobbiamo interrogare quella differenza pensate quando incontrate degli spacciatori mi riferisco sempre chiaramente agli operatori a volte qualcuno vi dice quanto guadagna magari mille mille e cinquecento euro al giorno ecco e voi pensate quasi quasi lo faccio anch'io magari glielo dite anche ma sapete qual è il benico è che per voi per tutti voi come per me questa cosa rimane sul piano dello scherzo del motto di spirito avrebbe detto Freud non è reale voi non lo fate davvero lui sì e perché non lo fate non lo fate per una quantità di buoni motivi perché la vostra vita è altra perché la vostra identità è costruita su altri parametri perché avete un lavoro perché avete una famiglia perché avete degli amici perché avete avete altro per cui in fondo quei mille euro al giorno certamente sarebbero bellissimi però avete altra roba dovreste rinunciare alla vostra identità per poter diventare spacciatori e quindi realmente se vi interrogate realmente sull'opportunità di fare questa scelta va a finire che non lo fate ecco che allora quindi quella che può apparire all'adolescente come una scelta naturale perché ti fumi dieci spinelli al giorno perché è bello perché rubi e per avere tanti soldi sì ma cioè la domanda è ma perché io invece non rubo allora perché io non faccio queste cose no perché voi non lo fate perché voi come adulti competenti nel momento in cui incontrate questi ragazzi non mettete già in scena in qualche modo il fatto che esiste una differenza perché voi state avete deciso di stare dentro il patto sociale perché il patto sociale consente la convivenza quindi il reato è un delirio è un'uscita dal solco dell'aratro per essere etimologicamente corretti e quindi una forma patologica di relazione con l'altro patologica ma è una patologia che noi dobbiamo interrogare nessun medico ci darebbe una medicina senza sapere cosa abbiamo quindi prima di tutto dobbiamo capire perché per lui è stato conveniente magari con una storia di reati e tutti uguali e poi i reati scegliono i loro autori e quindi c'è chi commette furti c'è chi commette aggressioni c'è chi commette solo reati sessuali di gruppo individuali è diverso quindi in qualche modo riuscendo a rispondere a queste domande si riesce anche a costruire quell'idea della diagnosi che consente poi di assumere la medicina se no noi ornella rischiamo giustamente di dare una medicina e di dire a uno guarda che ti rovini la vita se vai avanti così però questa roba qua funziona pochissimo sai in una minoranza di casi perché in realtà è già successa in fondo lui si è già messo contro quella roba lì ha già deciso di andare contro i rappresentanti della legge quindi se noi gli ricordiamo guarda che c'è una legge dice sì guarda lo sapevo ho già deciso che sto da un'altra parte ma perché hai deciso così e perché per guadagnare tanto ma perché guadagnare tanto perché per te in particolare i soldi sono così importanti perché assumono questo ruolo faccio degli esempi sono esempi presi a caso però il tema è questo è un'iniziale potente interrogazione quella che dobbiamo fare delle ragioni dell'altro è un'ultima vedo Raffaella e scusa una per precisare io sono convinta che non gli che non vada detto così ti rovini la vita però se un conto è dire così ti rovini ti rovini la vita un conto è il racconto dentro un carcere di che cosa vuol dire cioè è tutto ma certo ma certo ma certo è la cosa perché così ti rovini la vita diceva stamattina un ragazzo a me me lo dicevano in tanti e non me ne fregava niente però quando poi uno ti racconta com'è davvero è diverso Raffaella può essere un processo di identificazione chiudiamo poi Raffaella si scusa si beh è tardi quindi non voglio portare via però io volevo dire sull'onda di quello che hai detto tu prima Ornella che gli interventi di questo tipo e problematiche così complesse a scuola secondo me in questo momento e periodo devono essere affrontate con maggiore convinzione perché noi siamo costantemente a contatto con ragazzi fragili dove come diceva Dottor il ricorso allo psicologo ormai è diventato quasi la normalità in ogni classe e però noi dall'altra parte come dire molto specie non sappiamo come comportarci e se la valutazione diventa come dire una sorta di arma e noi però dobbiamo continuare a usarla e se questa fa parte comunque del processo del percorso di formazione noi dobbiamo avere le idee ben chiare insomma su come usarla e su come farlo nella maniera più onesta possibile in modo da tracciare anche dei limiti che sembra che nessuno abbia più il coraggio di tracciare nei confronti di quelli che sono gli studenti perché sembra anche dire guarda che come dire tu puoi arrivare fino a qua e nel momento con quello che hai fatto o che non hai fatto puoi arrivare fino a qua sembra sia veramente un insuto e questo secondo me non va bene insomma quindi è giusto che noi pensiamo come dire lo strumento di quella che è la valutazione ma soprattutto che abbiamo degli strumenti più per affrontare delle fragilità che fino a 10 15 anni fa insomma non rappresentavano un problema così grande in ogni caso è vero come diceva Ornella che segmento per così dire del disagio giovanile dentro il progetto appunto con le scuole secondo me va affrontato di più e meglio e quindi se Dottor Cremosi si rendesse disponibile a fare un intervento anche nelle nostre scuole beh sarebbe ben accetto però immagino che abbia un sacco di lavoro da fare guardi professoressa qualche volta e anche l'anno scorso devo dire mi è capitato di andare nelle scuole per molto tempo fatto della psicologia scolastica io sono un perito cioè adesso io faccio il perito per la giustizia civile e penale e penale minorile quindi diciamo questo è il mio lavoro quindi non riesco purtroppo a dividermi in altre cose sono responsabile di un master in psicologia giuridica in cui cerchiamo di insegnare ai colleghi a fare questo lavoro però soprattutto visto che è già un gruppo è già un gruppo che a me piace tantissimo cioè io vedendo questo misto che c'è di insegnanti di operatori degli USM io vedo un gruppo di persone in trincea cioè io ci vedo tutti quanti lì dentro il buco pieno di fango con i nostri moschetti le nostre armi spuntate a spiegare di combattere una battaglia terribile ha ragione prof solo ecco mi raccomando cioè ci manca che adesso quando ho parlato di psicologi ho sentito qualcosa che cioè guardi che è fondamentale ormai sì ma non intendo dire nulla contro gli psicologi mi raccomando il problema è che non c'è dialogo poi tra gli psicologi che lavorano in un grasso e noi che continuiamo ad essere ma ci deve essere ha ragione ci deve essere sinergia però io ho fatto molti interventi anche sul tema della criminalità nelle classi e facendo parlare i ragazzi perché poi questo è il tema non è tanto di raccontare i casi ecco io poi i casi li racconto ma piacciono di più ai genitori poi facciamo l'intervento serale facciamo una bella conferenza vengono tutti i genitori qualche ragazzo magari che chiaramente sono quelli che già prendono nove e mezzo sono quelli che quando prendono nove si incazzano cioè quelli lì sono quelli che vengono alle conferenze ma è normale così se vai nelle classi devi fare un altro lavoro allora sicuramente sì si può pensare di fare di preparare degli interventi e di preparare gli operatori che ci vadano magari non ci vado io però insomma guardate io sono molto disponibile a qualsiasi cosa per cui appunto sul sito www.gurogrimodi.it trovate i miei riferimenti ed eventualmente mi potete contattare se vi vengono delle idee anche bizzarre anzi se sono bizzarre tendenzialmente sono quelle che poi io dopo cerco magari di dividermi in dodici e cercare di fare qualcosa ma ho anche dei collaboratori che sono straordinari quindi si possono pensare delle robe e vabbè sono stato felicissimo però di questo intervento veramente grazie grazie ma ora grazie a tutti vi ricordo che il prossimo appuntamento è la settimana prossima con il magistrato di sorveglianza Marcello Botolato un po' sulla giustizia riparativa questa nuova legge queste nuove prospettive quindi ci vediamo lunedì prossimo e grazie grazie a tutti grazie grazie ancora a tutti arrivederci Amela ciao grazie